Ciao a tutti, salve a tutti ragazzi, buona vista al vostro Hector Edio di La Peña Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostelle e Spaniel A tutti ragazzi, allegria, allegramente, eccoci qui e oggi volevo parlarvi della sorpresa del campionato, la Spezia La Spezia, da poco arrivata dalla Serie B, precisamente sono 5 mesi che è tornata in Serie A sta stupendo tutti facendo prestazioni magistrali, ricordiamo ad esempio la grande vittoria nel derby contro la Sampetoria per 2-1 oppure la vittoria rimonta contro il Napoli al Napoli al San Paolo, Sao Paolo per 2-1 e parliamo della vittoria di oggi soprattutto, 2-1 contro il Sassuolo, affrontato squadre medioforti e restato in grado di sconfiggerle il Sassuolo passa subito in vantaggio con Ciccio Caputo grazie ad una ripartenza micidiale però la Spezia dice no, io non mi arrendo e riesce a pareggiare subito, alla fine del primo tempo però io i marcatori, non conosco i giocatori, cioè io conosco i giocatori di tutte le squadre però non mi ricordo i marcatori, mi dovete scusare, cioè per ogni video dovrei avere scritto chi è il marcatore aspetta, scusate un attimo ragazzi, scusate, non sto facendo niente, tutto bene, vorrei solo il cellulare ti faccio sapere, ok, lo scrivo io, per Elio va bene va bene, dopo lo scriviamo allora, fammi vedere una cosa Sassuolo, Spezia lo Spezia ha in vantaggio per 2 a 1 nel secondo tempo contro il Sassuolo ah, ok, e quindi il Sassuolo perte perché lo Spezia segna con Erlich Erlitz o Erlich, vabbè, è già sì cioè, si fenomeni, oh, ammassa che campioni che sono vabbè, questo video lo caricheremo anche su Instagram, mi raccomando ragazzi quindi, voglio dire, secondo me lo Spezia potrebbe arrivare tranquillamente decimo, quindicesimo massimo ma potrebbe anche lasciarsi una sorpresa di andare in Conference League la nuova un po' di tosse, tutto bene la nuova europea gara, gara europea, come si dice nuove qualificazioni europee nuovo posto europeo quella della Conference League, secondo me anche settimo potrebbe arrivare in Spezia non mi ricordo in che posizione ho smesso l'anno scorso alla fine del video, vabbè comunque vi saluto, a presto il vostro ectorelio della Pegna Valbuena e Spindosa dell'Antiaco dei Composti e gli spegnoli a tutti i ragazzi di allegria, vi saluto e vi ringrazio sempre e comunque, forza Lazio bella a tutti i belli e brutti a presto e buona la prima